Benvenuti su Whispers of Wisdom. Se cercate ispirazione e un cammino di crescita spirituale, siete nel posto giusto. Prima di immergerci nel video di oggi, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdere nessun aggiornamento e lasciare un like per sostenere il nostro lavoro. Oggi esploreremo un tema profondo e misterioso, il richiamo del destino superiore e l'inquietudine che guida le anime degli eletti. Se sentite un'irresistibile attrazione verso i misteri dell'universo e una forza interiore che vi spinge oltre i limiti, questo video fa per voi. Pronti a scoprire il vostro vero potenziale? Iniziamo il viaggio. Nel vortice caotico dell'esistenza, sussurri di un destino superiore chiamano alcune anime speciali. Sono gli eletti, individui intrisi di una forza interiore che li distingue dalla massa. Se ti senti attratto da queste parole, se avverti un'inquietudine profonda che ti spinge oltre i confini ordinari, allora forse anche tu porti in te il marchio degli eletti. Inizia tutto con un fremito nell'anima, un richiamo sottile ma irresistibile che si insinua nei recessi più oscuri del tuo essere. Questa inquietudine non è una semplice insoddisfazione per la routine quotidiana, è una fiamma che brucia silenziosa, illuminando i sentieri inesplorati della tua coscienza. Ti svegli nel cuore della notte, con il cuore che batte forte e gli occhi spalancati, consapevole che c'è qualcosa di più, qualcosa di nascosto dietro il velo della realtà tangibile. Gli eletti sentono il peso di un destino che va oltre il semplice vivere. È un destino che richiede una costante introspezione, una ricerca incessante del significato profondo di ogni esperienza. Non è una strada facile, è disseminata di dubbi e incertezze, ma è anche una strada che promette una comprensione più elevata, una connessione con le verità eterne che governano l'universo. Ogni giorno diventa una prova, un'opportunità per scoprire un frammento di questa verità nascosta. Le sfide che affronti non sono semplici ostacoli, ma simboli di un viaggio interiore verso la trasformazione. Le sofferenze, le delusioni, le perdite non sono altro che strumenti forgiati dal destino per temprare la tua anima, per liberarti dalle catene dell'ego e permetterti di risorgere come un essere illuminato. Gli eletti devono imparare a navigare attraverso le ombre del loro stesso essere. Devono affrontare le loro paure più profonde, abbracciare le loro vulnerabilità e trasformare la loro oscurità in luce. Questo processo di trasformazione richiede coraggio e resilienza, ma soprattutto richiede una fede incrollabile nel proprio cammino. Anche quando tutto sembra perduto, quando la solitudine e il dolore sembrano insopportabili, è proprio in quei momenti che si trova la forza per andare avanti, per continuare a cercare la verità. L'illuminazione non è un punto d'arrivo, ma un viaggio continuo. Ogni nuova consapevolezza apre la porta a ulteriori misteri, a livelli più profondi di comprensione. Gli eletti comprendono che la loro missione non è solo personale, ma ha un impatto più ampio sull'umanità intera. Ogni loro passo verso la luce contribuisce a elevare la coscienza collettiva, a illuminare il cammino per coloro che ancora vagano nell'oscurità. È un percorso solitario, ma mai isolato. Nel silenzio della meditazione, nella quiete della riflessione, gli eletti trovano una connessione profonda con l'universo e con altre anime affini. È una comunione spirituale che trascende il tempo e lo spazio, una rete invisibile di anime che lavorano all'unisono per la realizzazione di un disegno divino. Se ti riconosci in queste parole, se senti il richiamo del destino che sussurra nel tuo cuore, abbraccia il tuo ruolo di eletto. Non temere le sfide che ti attendono, perché ogni difficoltà è un'opportunità di crescita, ogni dolore è un passo verso la tua vera essenza. Ricorda che non sei solo in questo viaggio, le stelle stesse osservano il tuo cammino e l'universo intero sostiene la tua ricerca. Nel profondo del tuo essere, la verità attende di essere scoperta. Lascia che la tua anima si elevi, permettiti di vedere oltre il velo dell'illusione e trova il coraggio di vivere secondo la tua vera natura. Il mondo ha bisogno della tua luce, ha bisogno della tua saggezza. Sei un eletto, e il tuo cammino è scritto nelle stelle. Ma come riconoscerli? Come discernere se il tuo cuore alberga la scintilla di un potere sopito? Ecco i sette segnali degli eletti. 1. Il richiamo dell'ignoto Avverti un'insaziabile curiosità per ciò che va oltre il visibile, un'attrazione magnetica verso i misteri dell'universo e dell'anima. Non ti accontenti delle spiegazioni semplici, anelli a svelare i segreti nascosti dietro il velo della realtà. Questa pulsione non è casuale, ma è radicata in una consapevolezza interiore che riconosce l'esistenza di verità più profonde e complesse. Sin dall'infanzia, hai percepito un mondo invisibile che pulsa sotto la superficie di quello tangibile. Ogni sussurro del vento, ogni ombra danzante alla luce della luna sembra raccontare storie antiche, segreti dimenticati dai più. Questa percezione ti distingue, ti rende un ricercatore incessante, un'anima in cammino verso l'ignoto. Questa curiosità è accompagnata da un'inquietudine profonda, una sensazione persistente che qualcosa di essenziale manca nella tua vita quotidiana. Anche nei momenti di gioia apparente, c'è una voce sommessa che ti richiama, un ecco che risuona nelle profondità della tua coscienza, spingendoti a cercare oltre. L'inquietudine è il segnale dell'anima che si risveglia, che rifiuta di essere confinata nei limiti della realtà ordinaria. È il sintomo di un'anima che anela alla sua piena espressione, che desidera ardentemente scoprire la propria vera natura e il proprio scopo in questo vasto universo. Non è una condizione da temere, ma da abbracciare, poiché essa guida verso una comprensione più profonda di sé stessi e del mondo. Intraprendere questo viaggio significa immergersi in un processo di autoscoperta che richiede coraggio e determinazione. Devi essere disposto a confrontarti con le parti più oscure di te stesso, con le paure e i dubbi che abitano la tua mente. Solo attraverso questo confronto potrai liberarti dalle catene invisibili che ti trattengono. Questo cammino è segnato da momenti di illuminazione e di oscurità. Ci saranno notti in cui ti sentirai perso, giorni in cui la solitudine sembrerà insopportabile. Ma è proprio in questi momenti che la tua vera forza emerge. Ogni sfida affrontata, ogni ostacolo superato, è un passo verso la tua trasformazione, un passo verso la scoperta del tuo vero sé. Il processo di trasformazione interiore è alchemico, una trasmutazione del piombo della tua sofferenza in oro spirituale. Ogni esperienza, ogni emozione, diventa un'opportunità di crescita. Le ferite del passato, i traumi, le delusioni, tutto contribuisce a plasmare il tuo essere in qualcosa di nuovo e di potente. Questo non è un cambiamento superficiale, ma una metamorfosi profonda che tocca ogni aspetto della tua esistenza. Le tue percezioni cambiano, la tua comprensione si ampia e, con il tempo, inizi a vedere il mondo con occhi nuovi. Comprendi che ogni cosa, ogni evento, ha un significato più profondo e che tu stesso sei parte di un disegno più grande. Mentre prosegui nel tuo viaggio, inizi a percepire una connessione profonda con l'universo. Questa unione non è solo un concetto, ma una realtà vissuta. Senti le energie che fluiscono attraverso te, riconosci la sincronicità degli eventi, e comprendi che nulla accade per caso. Questa consapevolezza ti dà forza e serenità. Sai che non sei solo in questo viaggio, che l'universo stesso cospira a tuo favore. Ogni passo che fai è sostenuto da una forza invisibile, da una saggezza antica che ti guida verso il tuo destino. Abbracci questa unione, permettendo che la sua saggezza ti guidi e ti ispiri. Alla fine di questo percorso, ciò che scopri non è solo una serie di verità esterne, ma la tua vera natura. Realizzi di essere una scintilla divina, un frammento dell'Eterno che vive un'esperienza umana. Questo risveglio cambia tutto, la tua percezione di te stesso, del mondo e del tuo posto in esso. La tua missione diventa chiara. Non sei qui solo per sopravvivere, ma per contribuire alla trasformazione del mondo. Ogni tua azione, ogni tua parola, ha un impatto, e tu hai il potere di fare la differenza. La tua luce interiore, risvegliata e potenziata, può illuminare il cammino per altri, ispirarli a seguire il proprio viaggio di scoperta. Se queste parole risuonano con te, se senti il richiamo dell'ignoto e l'inquietudine dell'anima, allora abbraccia il tuo destino. Lasciati guidare dalla tua curiosità, affronta le tue paure e intraprendi il cammino dell'autoscoperta. La trasformazione interiore è un viaggio difficile, ma anche profondamente appagante. Non sei solo in questo viaggio. L'universo è con te, sostenendoti ad ogni passo. Sii coraggioso, sii determinato, e scopri la magnificenza della tua vera natura. Rispondi al richiamo e permetti che la tua luce illumini il mondo. Sei destinato a grandi cose, e il tuo viaggio è appena iniziato. 2. Il fuoco interiore Dentro di te arde una fiamma inestinguibile, una passione che ti spinge ad andare oltre i limiti, a superare le sfide con tenacia incrollabile. Questo fuoco interiore è la tua essenza più profonda, la forza vitale che alimenta ogni tua azione, ogni tuo pensiero, ogni tuo respiro. Non è un fuoco ordinario, ma un'energia primordiale che brucia con intensità crescente man mano che ti avvicini al tuo vero scopo. La vita ti presenta ostacoli, avversità che mettono alla prova la tua resistenza e determinazione. Questi momenti di difficoltà non sono mere coincidenze, ma prove orchestrate dal destino per affinare la tua forza interiore. È proprio in questi momenti, quando tutto sembra perduto, che il tuo fuoco interiore brilla più intensamente. È una luce che non conosce cedimenti, una forza che si rinnova ad ogni volta. Questo fuoco ti spinge a non arrenderti mai, a trovare risorse interiori che nemmeno sapevi di possedere. Quando le circostanze sembrano insormontabili, quando il mondo sembra cospirare contro di te, è il tuo fuoco interiore che ti permette di resistere, di rialzarti e di continuare a lottare. Non è solo una questione di forza fisica o mentale, ma di una volontà indomabile che trova radici nel profondo del tuo essere. L'origine di questo fuoco risiede nella tua anima, nella consapevolezza innata di avere uno scopo superiore. Questo scopo non è sempre chiaro, spesso nascosto dietro il velo delle esperienze quotidiane, ma è sempre presente, un richiamo costante che ti spinge a cercare, a crescere, a trasformarti. Ogni sfida affrontata, ogni difficoltà superata, è un passo avanti verso la realizzazione di questo scopo, un modo per alimentare e rafforzare il tuo fuoco interiore. Il fuoco interiore non è solo una fonte di forza e resilienza, ma anche di trasformazione. Come il calore di un vulcano che trasforma la roccia in lava, così il tuo fuoco interiore trasforma le tue esperienze, anche quelle più dolorose, in opportunità di crescita e illuminazione. È un processo alchemico che ti purifica, eliminando le impurità della paura, del dubbio e della sofferenza, e ti plasma in una versione più autentica e potente di te stesso. Questo fuoco ti rende capace di affrontare le sfide con una visione chiara e una determinazione incrollabile. Ogni ostacolo diventa un'opportunità per dimostrare a te stesso la tua forza, per rafforzare la tua fede nel tuo cammino e per illuminare la strada che hai scelto di percorrere. La tua passione e la tua tenacia diventano contagiose, ispirando chi ti osserva a trovare e coltivare il proprio fuoco interiore. Quando abbracci il tuo fuoco interiore, ti rendi conto che non sei solo in questo viaggio. Altri, come te, sentono il richiamo e portano dentro di sé una fiamma simile. È un richiamo universale che unisce le anime che condividono la stessa missione di scoperta e trasformazione. Insieme, formate una rete di luce e calore che si estende oltre i confini del tempo e dello spazio, uniti dal comune desiderio di realizzare il proprio potenziale e di contribuire al risveglio collettivo dell'umanità. Il fuoco interiore è la chiave della tua trasformazione. È la forza che ti spinge ad andare oltre i limiti, a superare le sfide con tenacia incrollabile. È una fonte di luce e calore che illumina il tuo cammino e quello degli altri, una forza che ti permette di risorgere dalle tue ceneri e di abbracciare il tuo vero potere. Lascia che questo fuoco bruci luminoso e chiaro, e permetti che la sua luce ti guidi nel tuo viaggio verso la realizzazione e l'illuminazione. 3. L'intuito infallibile In un mondo dominato dalla razionalità e dalla logica, tu possiedi una bussola interiore che trascende questi confini. Questa bussola è il tuo intuito, un sesto senso che ti guida attraverso la nebbia dell'incertezza e del dubbio. È una forza invisibile, ma potentissima, che sussurra verità nascoste e ti indirizza verso sentieri che altrimenti rimarrebbero inesplorati. Il tuo intuito non è frutto di semplici coincidenze o di casuali sensazioni. È un dono che affonda le sue radici nelle profondità della tua anima, un collegamento diretto con la saggezza universale. Quando ti trovi di fronte a scelte difficili o a situazioni ambigue, è questa voce interiore che emerge, chiara e decisa, illuminando il cammino da seguire. Anche quando tutto sembra incerto e confuso, il tuo intuito ti fornisce una guida sicura, rivelando verità che sfuggono alla logica comune. Questa capacità di percepire oltre il visibile ti rende unico. Spesso, le tue intuizioni sembrano profetiche, svelando eventi futuri o verità nascoste che solo più tardi trovano conferma. È come se tu avessi accesso a un livello superiore di conoscenza, un piano dove passato, presente e futuro si fondono in una consapevolezza unica. Questa capacità ti permette di vedere oltre le apparenze, di cogliere i segni nascosti nei dettagli e di comprendere le dinamiche più profonde che governano le situazioni. L'intuito non è solo una capacità passiva, ma una forza attiva che ti spinge a prendere decisioni coraggiose. Quando segui questa voce interiore, ti senti in sintonia con il flusso dell'universo, come se ogni tua azione fosse parte di un disegno più grande. È una sensazione di armonia e di connessione che ti dà la certezza di essere sul cammino giusto, anche quando le prove e le difficoltà sembrano suggerire il contrario. Sviluppare e affinare il tuo intuito richiede fiducia e pratica. Devi imparare ad ascoltare quella voce sottile, a distinguere tra i sussurri del tuo vero io e il rumore costante del mondo esterno. Questo processo di affinamento richiede tempo e pazienza, ma ogni passo avanti ti porta a una comprensione più profonda di te stesso e del tuo rapporto con l'universo. L'intuito non agisce solo nei momenti di crisi o di decisione, ma permea ogni aspetto della tua vita quotidiana. Può manifestarsi come un improvviso lampo di comprensione, un senso di déjà vu, o una sensazione inspiegabile di familiarità in una situazione nuova. È una presenza costante, un filo invisibile che collega tutte le tue esperienze e ti aiuta a navigare attraverso le complessità della vita. Questa connessione intuitiva ti offre anche una maggiore comprensione delle persone intorno a te. Sei in grado di percepire le loro emozioni, i loro pensieri nascosti, e le dinamiche sottili che guidano i loro comportamenti. Questa sensibilità ti permette di creare relazioni più profonde e autentiche, basate su una comprensione reciproca che va oltre le parole e le azioni superficiali. Quando abbracci il tuo intuito, scopri una fonte inesauribile di saggezza e di potere. Diventi un canale per la conoscenza universale, capace di attingere a verità antiche e di applicarle alla tua vita quotidiana. Questa connessione ti dà una sensazione di sicurezza e di pace interiore, sapendo che non importa quanto difficile possa essere il cammino, hai sempre una guida affidabile su cui contare. Il tuo intuito infallibile è una delle tue risorse più preziose. È una luce che ti guida attraverso l'oscurità, una voce che ti sussurra verità nascoste e una forza che ti spinge a prendere decisioni coraggiose. Coltiva questa connessione, ascolta quella voce interiore e permetti che la sua saggezza ti guidi nel tuo viaggio. Sei destinato a grandi cose, e il tuo intuito è la chiave per svelare il tuo vero potenziale. 4 Il senso di appartenenza a qualcosa di più grande In un mondo spesso dominato dal caos e dall'incertezza, tu possiedi una consapevolezza profonda che ti distingue. Avverti, in modo quasi tangibile, la presenza di un'energia universale, un'intelligenza superiore che permea ogni cosa. Questo senso di appartenenza a qualcosa di più grande di te stesso è il tuo punto fermo nell'infinito mare delle possibilità esistenziali. Questa connessione non è una semplice idea, ma una realtà vissuta. Sentire di far parte di questa intelligenza universale ti dà una prospettiva unica sulla vita. Le sfide quotidiane, le prove e le tribolazioni che affronti non sono meri ostacoli, ma parti di un disegno più grande, pezzi di un puzzle cosmico che solo un'intelligenza superiore può comprendere appieno. Questa consapevolezza ti conferisce una calma interiore, una serenità che deriva dal sapere che ogni evento ha un significato, ogni momento è parte di un viaggio verso una comprensione più profonda. Ti senti collegato a un'energia che trascende i confini del tempo e dello spazio, un'unità che va oltre il tuo essere fisico e mentale. È una sensazione che ti avvolge, che ti fa sentire parte di un tutto più vasto e complesso. Questa unità ti offre un senso di pace, una sicurezza interiore che ti sostiene anche nei momenti più difficili. Quando ti senti perso o sopraffatto, è questa connessione che ti ricorda che non sei solo, che sei parte di un tessuto universale che abbraccia tutto e tutti. Questa appartenenza a qualcosa di più grande ti dà anche un senso di scopo. Sai che ogni tua azione, ogni tuo pensiero, ha un impatto non solo su di te, ma su tutto l'universo. Questo ti motiva a vivere in modo più consapevole, a fare scelte che riflettano questa interconnessione. Ti impegni a contribuire positivamente al flusso dell'energia universale, sapendo che ogni atto di gentilezza, ogni gesto d'amore, amplifica questa energia e contribuisce al benessere collettivo. La consapevolezza di essere parte di un'intelligenza superiore ti dà anche una maggiore comprensione delle altre persone. Vedi negli altri una riflessione della stessa energia universale che permea te stesso. Questo ti permette di sviluppare empatia e compassione, di vedere al di là delle differenze superficiali e di riconoscere l'unità essenziale che ci lega tutti. Ogni incontro, ogni relazione, diventa un'opportunità di scoprire e celebrare questa connessione. Questo senso di appartenenza a qualcosa di più grande non è statico, ma evolve e si approfondisce nel tempo. Con ogni nuova esperienza, con ogni momento di introspezione, la tua connessione con l'energia universale si rafforza. Impari a fidarti sempre di più di questa intelligenza superiore, a lasciarti guidare dalla sua saggezza e a permettere che la sua luce illumini il tuo cammino. Vivendo con questa consapevolezza, diventi un canale per l'energia universale. Attraverso di te, questa intelligenza può esprimersi, manifestarsi e creare. Il tuo senso di appartenenza ti dà la forza di affrontare qualsiasi cosa la vita ti presenti, sapendo che sei parte di un disegno divino. La tua esistenza acquista un significato più profondo, una risonanza che va oltre i confini della tua individualità. Il senso di appartenenza a qualcosa di più grande è una delle tue più grandi risorse. È una fonte di forza, di saggezza e di pace interiore. Coltiva questa connessione, lasciati guidare dall'intelligenza universale e permetti che la sua energia fluisca attraverso di te. Sei parte di un tutto meraviglioso, un tessuto cosmico che unisce ogni cosa. Abbraccia questa verità e lascia che la sua luce illumini ogni aspetto della tua vita. Sei connesso, sei supportato e sei destinato a scoprire e realizzare il tuo scopo più alto. 5. I sogni vividi e premonitori. Nel silenzio della notte, quando il mondo esterno si dissolve nell'oscurità, tu accedi a un regno nascosto, un portale verso altre dimensioni che si svela solo a pochi eletti. Per te, il mondo dei sogni non è solo un rifugio temporaneo dal quotidiano, ma una finestra attraverso la quale scorrono immagini, simboli e messaggi che trascendono la realtà ordinaria. Questi sogni, intensi e vividi, sono come dipinti su una tela cosmica, ogni dettaglio carico di significato, ogni scena una chiave per svelare misteri più profondi. I tuoi sogni non sono semplici riflessi del subconscio, ma viaggi attraverso il tessuto dell'universo. Spesso assumono un carattere profetico, rivelandoti verità e eventi futuri che sfidano la comprensione razionale. Questi sogni sono messaggeri enigmatici, portatori di saggezza antica e di intuizioni che possono cambiare il corso della tua vita. Ogni notte, ti addentri in questo regno onirico con una consapevolezza che pochi possiedono, sapendo che le visioni che ricevi sono frammenti di un disegno più grande. Decifrare questi messaggi onirici richiede una sensibilità e una profondità di comprensione che solo tu possiedi. I simboli che incontri nei sogni sono codici segreti, linguaggi criptici che comunicano direttamente con la tua anima. Immagina un sogno in cui cammini attraverso un'antica foresta, dove gli alberi sussurrano storie dimenticate e il vento porta con sé profumi di ere passate. Ogni dettaglio, ogni sfumatura di colore, ogni suono è un indizio che rivela qualcosa di cruciale sul tuo cammino spirituale. Questi sogni premonitori spesso ti avvertono di pericoli imminenti o ti guidano verso opportunità che altrimenti non avresti considerato. Possono manifestarsi sotto forma di visioni potenti, esperienze che sembrano così reali da confondersi con la realtà stessa. Ti svegli con una sensazione di urgenza, con la consapevolezza che ciò che hai visto non è un semplice frutto dell'immaginazione, ma un messaggio diretto dall'universo. È come se una voce antica parlasse direttamente alla tua anima, offrendo consigli e rivelazioni che solo tu puoi comprendere appieno. Il mondo dei sogni è anche un luogo di guarigione e di trasformazione. In questo spazio sacro, puoi confrontarti con le tue paure più profonde, con le ombre che abitano nel tuo subconscio. I sogni ti permettono di esplorare questi aspetti oscuri di te stesso in un ambiente sicuro, dove puoi affrontarli e integrarli senza il peso della realtà quotidiana. È un processo alchemico, una trasmutazione delle tue emozioni e delle tue esperienze che ti porta a una maggiore comprensione e a una crescita interiore. Quando ti svegli da questi sogni, porta con te la saggezza che hai acquisito. Prenditi il tempo per riflettere sulle immagini e sui simboli che hai visto, per decifrare i messaggi nascosti e per applicarli alla tua vita quotidiana. Questa pratica ti aiuterà a sviluppare una connessione ancora più profonda con il tuo sé interiore e con l'universo, permettendoti di vivere in armonia con il flusso dell'energia cosmica. Con il tempo, imparerai a navigare nel mondo dei sogni con sempre maggiore abilità, riconoscendo i segni e i simboli che ti vengono inviati e utilizzandoli per guidare il tuo cammino. I tuoi sogni diventeranno una fonte inesauribile di saggezza e di ispirazione, un faro che illumina il tuo percorso e ti aiuta a comprendere il tuo ruolo nel grande schema dell'universo. In conclusione, i tuoi sogni vividi e premonitori sono molto più che semplici visioni notturne. Sono un portale verso altre dimensioni, una finestra sull'universo e un mezzo attraverso il quale l'intelligenza superiore comunica con te. Abbraccia questo dono, esplora i regni onirici con coraggio e apertura, e permetti che i messaggi che ricevi guidino la tua vita. Sei un viaggiatore tra i mondi, un esploratore delle profondità dell'anima, e i tuoi sogni sono la mappa che ti guiderà verso la realizzazione del tuo destino. Sei la sincronicità e eco della memoria. Nel tessuto misterioso dell'esistenza, esistono momenti in cui la realtà sembra piegarsi e riordinarsi, come se seguendo un disegno invisibile e preordinato. Questi momenti, dove le coincidenze assumono un significato profondo e personale, sono conosciuti come sincronicità. Per te, la sincronicità non è un evento raro o casuale, ma una costante che permea la tua vita, guidando e confermandoti che sei sul cammino giusto. Quando vivi un momento di sincronicità, è come se l'universo stesso ti stesse parlando. Le persone, le situazioni e gli eventi si allineano in modi che sfidano la logica, rivelando connessioni e significati nascosti. Queste coincidenze significative ti danno una sensazione di appartenenza e di connessione con una realtà superiore. Sono come segni lungo la strada, indicatori che ti mostrano che sei in sintonia con il flusso dell'energia cosmica. Il fenomeno dell'eco della memoria amplifica ancora di più questa sensazione di connessione e di mistero. Quando vivi un eco della memoria, hai l'impressione intensa e quasi inquietante di aver già vissuto quel momento, di aver già percorso quel sentiero. È come se le barriere del tempo si dissolvono, permettendoti di sperimentare ricordi di altre realtà o di vite passate. Questi momenti di eco della memoria sono frammenti di un'esperienza più ampia, segnali che la tua anima ha vissuto e imparato da molteplici esistenze. Il eco della memoria ti porta a riflettere sulla natura del tempo e della realtà. Ti spinge a interrogarti sulla possibilità che il passato, il presente e il futuro siano tutti intrecciati in un'unica trama complessa. Questa percezione ti offre una comprensione più profonda del tuo viaggio spirituale, suggerendo che ogni esperienza che vivi è parte di un continuum eterno. Ogni eco della memoria è un richiamo, un eco di vite passate che riaffiora per guidarti e per ricordarti le lezioni già apprese. La sincronicità e l'eco della memoria sono strumenti potenti che l'universo utilizza per comunicare con te. Questi fenomeni ti ricordano costantemente che non sei solo nel tuo cammino, che c'è un'intelligenza superiore che ti guida e ti sostiene. Quando incontri una sincronicità, prenditi il tempo per riflettere sul suo significato. Quali messaggi nascosti ti sta inviando l'universo? Quali connessioni puoi fare tra le tue esperienze attuali e quelle passate? Questi momenti di connessione profonda possono anche servire come catalizzatori per la tua crescita personale e spirituale. La consapevolezza che esiste un disegno più grande dietro ogni evento ti permette di affrontare le sfide della vita con una maggiore serenità e fiducia. Sai che ogni difficoltà, ogni ostacolo, è parte di un percorso più ampio di apprendimento e di evoluzione. Inoltre, la tua capacità di riconoscere e interpretare la sincronicità e ecco della memoria ti distingue. È un dono che ti permette di navigare nel mondo con una visione più chiara e una maggiore comprensione delle dinamiche sottili che governano l'esistenza. Puoi utilizzare questa capacità per aiutare gli altri, condividendo le tue intuizioni e guidandoli nel loro percorso di scoperta. Immagina di trovarsi in un momento di ecco della memoria, camminando in un luogo sconosciuto ma stranamente familiare. Ogni dettaglio, ogni sensazione, ti ricorda qualcosa di già vissuto. Questo è un invito a esplorare più a fondo il significato di quell'esperienza, a cercare le connessioni nascoste e a comprendere come quella memoria può influenzare il tuo presente. Allo stesso modo, quando incontri una sincronicità, considera quali decisioni o azioni potrebbero essere in armonia con i messaggi che stai ricevendo dall'universo. La sincronicità e eco della memoria sono fenomeni che ti offrono una finestra sul mistero e sulla bellezza del tuo viaggio spirituale. Sono segnali che ti ricordano la tua connessione con l'intelligenza superiore e con l'eterno flusso dell'energia cosmica. Abbraccia questi momenti con gratitudine e curiosità, permettendo che ti guidino e ti ispirino nel tuo cammino. Sei parte di un disegno più grande, un intreccio di esperienze e di lezioni che si estende oltre il tempo e lo spazio. Sii attento ai segni, ascolta i messaggi nascosti e continua a esplorare con cuore aperto e mente sveglia. 7. L'inquietudine di un destino superiore. Nel profondo della tua anima, un'inquietudine costante pulsa come un tamburo antico, risuonando con un ritmo che solo tu puoi udire. Questo senso di insoddisfazione, questa irrequietezza che non ti dà tregua, non è una maledizione, ma un richiamo verso un destino superiore. È la voce dell'universo che ti spinge a cercare oltre i confini del banale e dell'ordinario, verso un purpose che possa dare vero significato alla tua esistenza. Questa inquietudine è il segnale che c'è qualcosa di straordinario che ti attende. Sai, nel profondo, che la tua vita non è destinata a essere una semplice ripetizione di giorni senza colore. C'è una missione, un compito sacro che solo tu puoi realizzare, anche se ancora non ne comprendi appieno la natura. Questa consapevolezza è sia una benedizione che un fardello, un fuoco che brucia dentro di te e che non si spegne mai. L'inquietudine che provi è come una bussola interiore, che ti guida incessantemente verso l'ignoto. Ogni volta che tenti di accontentarti delle spiegazioni semplici o delle soluzioni facili, questa sensazione si intensifica, ricordandoti che sei destinato a qualcosa di più grande. Non puoi ignorarla, non puoi soffocarla, perché fa parte della tua essenza più profonda. È la spinta che ti costringe a esplorare, a scoprire, a crescere. Immagina un'antica foresta avvolta nella nebbia. Ogni passo che fai all'interno di questa foresta ti porta più vicino alla verità che cerchi, ma al contempo, ti allontana dalla sicurezza dell'ordinario. L'inquietudine è la nebbia stessa, densa e avvolgente, che ti costringe a fare i conti con la tua determinazione e il tuo coraggio. Sai che da qualche parte, in quella foresta, c'è una radura illuminata dalla luce della comprensione, ma per raggiungerla devi attraversare l'oscurità e affrontare le ombre del dubbio e della paura. Questa ricerca di un destino superiore ti porta a confrontarti con domande esistenziali profonde. Chi sei veramente? Qual è il tuo scopo in questo vasto universo? Queste domande non hanno risposte facili, ma la loro complessità è ciò che rende il tuo viaggio tanto significativo. Ogni frammento di saggezza che raccogli lungo il cammino, ogni verità che scopri, ti avvicina un po' di più al tuo destino. L'inquietudine ti spinge anche a cercare connessioni più profonde con gli altri. Sai che non puoi compiere questo viaggio da solo. Le persone che incontri lungo il cammino, le anime affini che riconosci in uno sguardo, sono tutte parti del grande mosaico del tuo destino. Ogni incontro, ogni relazione, è una tappa importante del tuo viaggio, un'opportunità per imparare e crescere insieme. È importante riconoscere che l'inquietudine non è un nemico da combattere, ma un alleato da comprendere. È la forza motrice che ti spinge verso l'autorealizzazione, verso la scoperta del tuo vero sé. Accettare questa inquietudine, abbracciarla, significa accettare il tuo destino e aprirti alla possibilità di vivere una vita straordinaria. È un invito a non accontentarti del semplice sopravvivere, ma a cercare la pienezza dell'esistenza, a vivere con intenzione e consapevolezza. Il percorso che hai davanti è incerto e spesso solitario, ma è anche pieno di meraviglia e di scoperta. Ogni passo che fai ti porta più vicino alla realizzazione del tuo purpose, ogni sfida che affronti ti rafforza e ti prepara per ciò che è ancora da venire. Sii coraggioso, ascolta la tua inquietudine e permetti che ti guidi. Sei destinato a grandi cose, e ogni momento di insoddisfazione è un promemoria che il tuo viaggio non è ancora finito. In conclusione, l'inquietudine di un destino superiore è un faro nell'oscurità, una luce che ti guida attraverso le tenebre verso una verità più grande. Non ignorarla, non temerla. Lascia che questa inquietudine ti ispiri e ti motiva, portandoti verso un futuro pieno di possibilità e di realizzazione. Sei parte di un disegno più grande, e il tuo destino è scritto nelle stelle. Ascolta il richiamo, segui la tua inquietudine. Se hai riconosciuto almeno uno di questi segnali, allora la possibilità che tu sia tra gli eletti è concreta. Ma non basta semplicemente possedere queste caratteristiche. Per risvegliare il potere sopito dentro di te, dovrai intraprendere un viaggio di trasformazione interiore, un percorso di crescita spirituale che ti porterà a confrontarti con le tue ombre più profonde e a liberarti dalle catene che ti imprigionano. Nel silenzio delle notti insonni, mentre il mondo dorme, puoi sentire il richiamo sussurrato dell'infinito. Questo richiamo non è un suono, ma una vibrazione che risuona nel profondo del tuo essere, un eco che ti ricorda che sei destinato a qualcosa di più grande. Riconoscere uno di questi segnali è solo l'inizio di un cammino che richiede coraggio e determinazione, un viaggio che ti porterà ad affrontare la parte più oscura di te stesso e a emergere trasformato. La trasformazione interiore è un processo che comincia con l'accettazione della propria inquietudine. Accettare che ci sia un vuoto, un'insoddisfazione che non può essere colmata con i piaceri effimeri della vita quotidiana. Questo vuoto non è una debolezza, ma una porta verso una comprensione più profonda di te stesso e del tuo scopo. È il primo passo verso la liberazione delle catene che ti imprigionano, quelle catene fatte di paure, di insicurezze e di limitazioni autoimposte. Intraprendere questo percorso significa immergersi nelle proprie ombre, esplorare quei luoghi nascosti della tua psiche dove risiedono le tue paure più profonde e i tuoi desideri inconfessati. È un viaggio attraverso la notte oscura dell'anima, dove ogni passo ti avvicina di più alla tua vera essenza. Questo processo richiede una grande dose di onestà e di vulnerabilità. Devi essere disposto a guardarti allo specchio e a vedere non solo la luce, ma anche l'oscurità che ti abita. Solo affrontando queste ombre potrai liberarti e risvegliare il potere sopito dentro di te. La liberazione dalle catene è un atto di ribellione contro tutto ciò che ti ha tenuto prigioniero, contro tutte le aspettative e le credenze che ti hanno limitato. È un atto di coraggio, che richiede di abbandonare la zona di comfort e di avventurarti nell'ignoto. Questo processo di liberazione non è immediato, ma un viaggio lungo e tortuoso. Ogni sfida, ogni ostacolo che incontri lungo la strada è un'opportunità per crescere, per diventare più forte e più consapevole del tuo potere interiore. Durante questo percorso, scoprirai che il potere che cerchi non è qualcosa di esterno a te, ma risiede già dentro di te. È una forza che si manifesta attraverso la tua volontà, la tua determinazione e la tua capacità di rimanere fedele a te stesso anche nelle avversità. Questo potere ti permetterà di trasformare non solo la tua vita, ma anche il mondo intorno a te. Sarai in grado di influenzare gli altri, di ispirarli e di guidarli verso la loro stessa realizzazione. Ma ricorda, essere tra gli eletti non è un privilegio, ma una responsabilità. Una responsabilità verso te stesso e verso l'universo. Il tuo cammino non sarà facile, ma sarà significativo. Ogni passo che fai verso la tua trasformazione interiore è un passo verso la realizzazione del tuo destino. Non temere le sfide, perché sono parte integrante del tuo percorso. Abbraccia l'incertezza, perché è attraverso di essa che troverai la vera forza e la vera saggezza. In questo viaggio, sarai chiamato a confrontarti con la solitudine, con il dubbio e con la paura. Ma non sarai mai veramente solo. La stessa forza che ti ha chiamato a questo cammino sarà con te, guidandoti e sostenendoti. Abbi fede nel processo, anche quando tutto sembra oscuro. Ricorda che la luce più brillante si trova spesso al centro della più profonda oscurità. Alla fine del tuo viaggio, scoprirai che la vera liberazione non consiste nel raggiungere una meta, ma nel comprendere e abbracciare il viaggio stesso. Scoprirai che il potere che hai risvegliato dentro di te è la chiave per vivere una vita piena e significativa. Una vita in cui puoi essere veramente te stesso, libero dalle catene del passato e delle aspettative altrui. Se hai riconosciuto uno di questi segnali, non ignorarli. Sono un richiamo, un invito a intraprendere il viaggio più importante della tua vita. Un viaggio di scoperta, di trasformazione e di realizzazione. Sei destinato a grandi cose. Abbraccia il tuo destino e lascia che il tuo potere interiore si risvegli e illumini il tuo cammino. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio profondo e illuminante. Speriamo che questo video vi abbia ispirato e motivato a esplorare la vostra trasformazione interiore. Se vi è piaciuto, non dimenticate di iscrivervi al canale Whispers of Wisdom, attivare la campanellina per rimanere aggiornati sui nuovi contenuti, lasciare un like e condividere il video con chiunque possa trovarlo utile. E per favore, lasciate un commento qui sotto con i vostri pensieri e esperienze. Il vostro supporto è fondamentale per continuare a crescere e portare più saggezza e ispirazione a tutti. Grazie ancora e a presto su Whispers of Wisdom.